Salve a tutti! Oggi ho realizzato questo dispositivo di cui vi avevo già accennato nel video 6 del mio canale e in pratica si tratta di un dispositivo di sicurezza molto importante e voglio passare ad illustrarvi il suo funzionamento. Di cosa si tratta? Come vi avevo già detto nel video, in pratica ogni strumento, ogni scheda, ogni elettrodomestico che viene provato sul banco per questioni di sicurezza deve prima passare attraverso degli opportuni interruttori in modo che se dovesse succedere qualcosa di imprevisto come corti circuiti o situazioni pericolose è possibile intervenire in sicurezza onde evitare danni soprattutto alla persona oltre che a oggetti o a cose sul banco. Quindi in pratica che cos'è che ho fatto? Ho messo in serie due interruttori uno di tipo magnetotermico che è automatico e uno di tipo a fungo che è manuale ovvero questo viene azionato da noi quindi quando premiamo lui apre il circuito elettrico e quindi ha la funzione di diciamo siamo noi ad azionarli quando ci rendiamo conto che la situazione sul banco è diventata pericolosa o sta accadendo qualcosa di pericoloso mentre l'altro interviene in modo automatico ovvero senza il nostro intervento generalmente lui interviene solo in due casi ovvero o se si verifica un esubero di potenza quindi tradotto con il suo funzionamento se si verifica un eccesso di corrente che passa al suo interno che in questo caso io ho scelto una corrente massima di 6A scritto qui C6 indica 6A perché il condatore di casa e il generale hanno un interruttore magnetotermico di 16A quindi per far sì che nel caso si verifichi un esubero di potenza scatti prima lui deve avere un valore di corrente più piccolo altrimenti scatterebbe il generale o il condatore inoltre interviene quindi similmente anche in caso di cortocircuiti ed essendo anche qui il valore più piccolo lui dovrebbe scattare prima scattare prima del 6A in teoria è così inoltre è un interruttore abbastanza veloce nel caso di cortocircuiti perché interviene in circa 32-35 millisecondi quindi un tempo davvero piccolissimo rispetto al nostro tempo di reazione nel caso in cui ci accorgessimo che c'è qualcosa che non va sul banco ok ah, ultima accortezza questo tipo di interruttore deve essere collegato nel modo corretto ovvero risende della fase e del neutro in pratica lui scatta comunque però è più corretto mettere il neutro dove c'è il simbolino N quindi nello slot N e quindi NN e la fase nell'altro slot è più corretto perché per il circuito che lui internamente è questa la configurazione corretta senza scendere troppo nei dettagli quindi non cambia nulla se si inverte però è meglio farlo così poi vi faccio un attimo vedere anche come si individua la fase con un multimetro allora nel caso in cui non abbiate un cerca fase in casa o a portata di mano si può trovare la fase anche con un multimetro adesso vi faccio vedere come ho connesso la presa alla rete allora mettete il multimetro in modalità tensione alternata e con uno dei due puntali uno lo tenete in mano e con l'altro andate a puntare sui pin dell'alimentazione ok questa è la fase non uscirà a 200 vendi uscirà un valore più alto di 0 quasi 100 in questo caso ma comunque ve ne accorgete perché è sempre un valore molto più alto rispetto all'altro letto quindi in questo caso questo è il neutro e questa è la fase quindi ovviamente se vi trovate invertiti basterà se non è il collegamento è fisso e avete una presa basterà ruotare la presa e quindi se una volta avete acchiappato il neutro la prossima volta acchiapperete la fase adesso andremo ad eseguire due test ovvero uno di esubero di potenza e uno di cortocircuito e andiamo a vedere se il magneto termico funziona correttamente andiamo quindi a eseguire il primo test ovvero quello di esubero di potenza e per far questo ho connesso due scaldini due caldo bagno che ciascuno può riuscire a raggiungere 2000 watt di potenza quindi connessi tutte e due possono arrivare a 4000 watt e ovviamente già a 2000 watt il magneto termico dovrebbe scattare quindi adesso andiamo a fare la prova collego accendo la prima ecco qui tutte e due accese dovrebbe scattare ci mette qualche secondo ecco qui scattato ha rilevato l'esubero di potenza e ha chiuso il contatto quindi per esubero di potenza funziona adesso faccio una prova di corto per effettuare la prova di corto ho preso un cavo ho spelato le estremità e tramite due coccodrilli sono andato a cortocircuitarli su una resistenza di circa 3 ohm questo è un filo di nickel cromo non voglio fare il corto diretto ovvero proprio due fili in cortocircuito perché è un evento abbastanza traumatico anche per il contatore quindi preferisco metterci una resistenza anche minima ma con la resistenza che c'è il magneto termico dovrebbe vedere una corrente di picco di 60-70 ampere quindi io adesso andrò a connettere la spina nella presa e vediamo se scatta molto bene è tutto pronto per il test attacco l'interruttore collego la presa è scoppiato prima il filo ok ho connesso i due coccodrilli sulla parte di avvolgimento ancora integra e ripeto il test ok questa volta non è esploso nulla è scattato il magneto termico dopo questi test si può dire che quindi il dispositivo funziona correttamente inoltre durante i test si è visto anche che gli eventi pirotecnici sono all'ordine del giorno sul banco quindi si è visto l'importanza di questo dispositivo ultima accortezza bisogna mettere questo dispositivo a portata di mano quindi in un posto dove è facile da essere raggiunto perché se lo nascondete dietro qualcosa o è difficile da raggiungere mentre state lavorando perde la sua funzione perché se non riuscite magari a raggiungere in fretta l'interruttore manuale non ha senso utilizzarlo va bene per questo video è tutto alla prossima